Sensibilizzare i cittadini sulla cultura del dono. Da 45 anni è sempre stato questo l'obiettivo di AIRO, l'associazione italiana donatore di organi che stamane insieme alla TS della Montagna guidata da Maria Biliatrice Stasi ha rilanciato al progetto Una scelta in comune, il servizio che offre la possibilità ai cittadini in serie di rilascio o rinnovo della carta d'identità di dare il loro senso alla donazione. Questa è una campagna molto importante tenuto conto che in Italia, nonostante sia un paese dove sono fatti passi da gigante sulla cultura della donazione e dei trapianti, abbiamo ancora più di 9.000 pazienti in lista d'attesa, in alcuni casi come nel caso del trapianto di rene con attesa di circa due anni e mezzo. Quindi riuscire ad ampliare la rete dei potenziali donatori vuol dire dare una risposta di vita a tante persone in attesa di una speranza. Avere tutti i comuni che affiancano l'AIDO in questa campagna porterà ad un notevole incremento dei potenziali donatori di organi, ha commentato il presidente provinciale AIDO Maurizio Leari, abbattendo così drasticamente le persone in lista d'attesa. Sensibilizzare, informare, la parola informare è importante perché purtroppo ci sono ancora molte reticenze da parte di tanti cittadini perché non ci sono delle conoscenze di natura tecnico-scientifica che permettono di fare una scelta consapevole e ponderata. Fondamentale dunque è formare il personale dell'anagrafe del comune che dovrà illustrare ai cittadini questa bella opportunità. E dei risultati già non ci sono fatti attendere, considerato che sui 77 comuni presenti sono già 32 quelli che hanno deciso di abbracciare questa buona causa. La provincia di Sondoli, dove già l'anno scorso era partita una formazione a favore degli operatori degli uffici anagrafe, abbiamo avuto dei risultati assolutamente positivi. Contiamo entro la fine dell'anno di aumentare di molto il numero dei comuni su tutto il territorio dell'ADS che aderiranno a questa iniziativa. Aderire non costa nulla, una scelta gratuita che può però pagare tanto.